Sono un posto scurito, tutto il punto è giusto Ciao a tutti, buonasera Ciao, allora, questa sera ci troviamo in un casulare che era stato abitato da Dei Conti in cui si dice, Luca, la storia precisa è che tutto il paese della collina, perché noi siamo praticamente sotto a un paese tutto il paese prima si serviva da questi conti perché avendoci tutta la collina qui intorno, tutte le campagne qui intorno coltivavano, avevano le bestie, capito? e tutte le persone del paese venivano qua giù a comprare la magna, le verdure a comprare i conti, che ci sono veramente servi qui sotto qui a valle ci sono un chioschetto che adesso naturalmente non c'è più, ci hanno fatto le fabbriche è un casino se tratta di 120 anni fa 120 anni fa però non si può dire effettivamente il nome dei conti anche perché non mi ricordo perché non ve l'ho scritto anche se ce li ricordavamo giustamente per... no, ho dovuto fare una ricerca con le persone vecchie che abitavano qui ah, ecco, ecco che abitavano nel paese qui sopra quindi mi hanno detto però sai allora dicene che tutti e due è una specie di azienda agricola si, bravissimo era una specie di azienda agricola dei 200 anni fa perché è 120 anni che è ferma cioè che non c'è più nessuno ma è stata attiva per più di 95 anni ah beh, cavolo, tanto, un sacco d'anni come azienda sì, come azienda poi è morti i conti è morti qui dentro casa ah, proprio qui dentro... sì è morti qui dentro l'abitazione i figli avevano solo una figlia che da grande si è trasferita in Inghilterra ah, ho capito e quindi qui ha lasciato tutto all'abbandono praticamente è finito questa è la parte del garage questa diciamo è la parte esterna in poche parole se dovrebbero agire ancora qui dentro questi conti? i conti se dovrebbero agire ancora qui dentro perché la figlia non gliela faceva sta dentro casa ah per questo si è allevata ho capito è andata via e sentiva delle voci sentiva delle presenze soprattutto delle notte cioè nonostante fossero stati i genitori c'erano sempre paura eh certo anche se il genitore se vuole manifestare in buono ok magari solo salutarti perché sei la figlia è te da persona normale che ti si manifesta con qualsiasi cosa naturalmente non è che stai bene giustamente giustamente anche se sai che c'è che fa con i spiriti dei genitori tui un attimino sai anche se c'è l'età difficile a convivere però Pasquale non è però questa qui non gliela fatta infatti se avete visto il cartello si si lei si è trasferita in Inghilterra adesso non so se ha nipoti eccetera eccetera se lì è morta non si sa comunque qui la casa è stata lasciata ehm compiata abbandono si adesso potremmo vedere se questa storia è vera esatto se effettivamente ancora attivi eh si vedremo se attivi proveremo gli attrezzi che ci ha mandato Pellella e ringraziamo ovviamente ci ripetiamo sempre per ringraziare perché permesso che il K2 già come si è calato giù dalla macchina che l'ho acceso subito perché adesso è acceso ok ma poi ho visto che ha segnato ecco ha segnato pure infatti adesso ha lampeggiato c'è c'è qualcosa e poi c'è anche un'altra cosa che questo è un K2 modificato nel senso che non c'è la luce fissa che quando è acceso no allora questo qui c'ha o solo luce ok o luce e audio ah ok però non so se lo vuoi fare anche a vedere se l'avete già fatto vedere l'ho già fatto vedere in video dell'unboxing perché l'ho lasciato con l'unboxing della gente che ci ha spedito quindi già lo conoscono in solito ok possiamo cominciare l'investigazione possiamo cominciare l'investigazione e vedremo cosa succederà noi siamo fronti a tutto come sempre 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 tutti attrezzati sempre tutti sempre da qui c'è parte no da qui no per cadurare è accanto però andiamo quindi iniziamo l'investigazione a tra poco oh 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 c'è sentito? si il boxe il K2 K2 stai 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 c'è qualcuno qui dentro? si c'è qualcuno qui dentro? qui qui segna un po' la pavugna ma guarda un po' mi mettermi che segna eh visto? ti ho detto questo è una bomba su K2 che ha costruito altro altro che la roba che troviamo a comprare in giro questo lo trovo tutte le fonti eh no ma infatti è sensibilissimo è fortissimo un bel po' guarda qui sotto che cazzo si se volete fare se volete parlare con noi stasera? un po' c'è un po' un po' mi sembrava un attimo che non è una contrappera quindi sono una infatti va sta in una la di che non 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 ma Ecco Luca, se ti viene in mente qualche domanda, dici tutto quello che vuole. Sì, sì. È vero quello che racconta la storia? Che sono i due conti che stai festando questo posto? Ci potete spiegarvi perché? Sì, sì. Sì. Eh, qua è quasi lontanato, sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. , 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 sì, sì, sì. , sì, sì. Da dietro c'è un altro stabile? Non so se vi siete accorti. Dietro, dietro qua questo c'è un altro stabile. No, se passa da qua c'è la porta aperta. Non vi siete accorti di niente? Dall'interno? No perché lui è arrivato fino a metà, io non mi raccoglio sicuramente. Ci voglio andare un po' fino a metà. No, tanto che siamo da sotto, lo colmiamo verso, non so. Vai giù dal piede a sinistra. Oh cazzo! Che cazzo? Che cazzo è? Vieni qua già, qui! Cazzo è un animale morto. Che cos'è di preciso? Ah non lo so ma è grosso. Un cagnetto? Un cazzo, vai. Non credo che c'è sempre più lunghi. Non credo che c'è sempre più lunghi. Perché tante volte ha un po' di spiriti animati eh? Ci può essere. E' un po' il capotecino. E mi è interato. Si ce l'ho messo, guardate. Trovò un capotecino e... ah no scusate non è un altro stabile è un'altra stanza pensavo che era un altro stabile però si pare che se vede sopra scusa è una scala questa no no è una porta è una porta è una scala io non ho ancora una porta si vedi però che va da fuori quello porta sull'esterno si vede da fuori allora bisognerebbe fare un giro un giro dentro perché l'ho tratta quando abbiamo fatto l'ispezione abbiamo fatto il sopra il luogo adesso l'ho visto si è arrivato quando abbiamo parlato stanno andando cominciando a spiegare l'interione si anche perché tra l'altro ci stavano a camminare eh si ci tengo a precisare io una cosa del genere era tanto che non sentivo più a camminare sopra qui sembra un gabbio non so per qualche bestia volante ma grossa cazzo si tipo una gabbia gigante per il cielo se non è arrivata così a posto siamo segregati come di papilla un attimo ok 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 passiamo venire qua su con il basso permesso c'è ancora una foto da dietro Fede una foto da dietro un trascicolo un trascicolo è un fiore che credi che può fare come cose come un gattuesca si guarda un po' ma sembrava non siete fatti un simbilo un quantino si è vostra questa piazza agricola mi si cominciano a triscipedi eh siamo in due mi si cominciano alla vostra piazza agricola 0.3 Pasquale questo è remofiato fatti in tempo? si si parlate in questo apparecchio mi richiamate? è un rischio qui non è un rischio non è un rischio ma non attenzione ragazzi io spero che non si muove col chaffo ma è solo un minore non è mai diceva, ma non è solo un minore proviamo po a metter di cattolone e' un grosso stucco Mi... Da! sentito? ti passi? guarda qua tutto crollato guarda qua sentito? si, non dà ragazza però un po' a spostare con l'attaccapagno magari dietro c'è una cosa nascosta no, è quello nuro comunque senti questa qualcosa senti cari a ghiaccia come sta a venire oltre c'è da svapare eh sì, è lo spavimento con lo svapare qui, sento freddo qui prova un po', falla un po' fuori il palo? pari a un bambino no però non c'è, non c'è perché te la siamo fatta in via sentito? sentito? la cosa è una caldata qua bisogna essere attenti cosa c'è? bagno dai, vieni oh no, è lui che ha collegato le quattro sta miseria no, è collegato le quattro hai fatto via l'accidente con qua? eh, sei in due un po' passato prego forse va bene non è risulta? no forse va bene oh è un po' passato è un po' passato è un po' passato eh no, no 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 ma guarda per qualsiasi cosa se devi fare domande è bravo bravo destra destra no ma non l'ho fatto in tempo 2.7 c'è stato uno sbalzo non è facile perché è troppo veloce ma guarda c'è qualcuno è io non lo sai oh ma che cazzo fai? ho fatto pieno infarto 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 ah hai fatto qualcosa? no non lo so mi sono sentito come una matto che ha ammigliato la schiena e lui si è sgrillato le orecchie perché un attimo ma puoi toccarmi? ci sei entrato in quella stanza lì? sì però c'è niente prova un po' ti faccio una foto da dietro le spalle ma come hai fatto Luca? avanti toccami ci sono toccati? ci sono toccati? vi levate la vettura? cosa vuolevi fare Luca? vuolevi accaracciarlo o vuole tentare di picchiarlo? vorrei fare questa cosa con lui? avanti un attimo mi ha sbalzato il cuore in gola ma è stato un attimo eccociau 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 Sto facendo il palo, mi sento sotto a me. Un quadro, questo è uno specchio ragazzi, fatto a forma di bara, guarda, è uno specchio. Però se c'è il vetro. Come no, c'è il vetro mezzozzo, è cent'anni che sta qui. Sì, 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 è vero, c'è il vetro. E che pare che sì, perché sta a metterla su e c'è sopra. Lo tiro su, eh? O può giù qui? Ma che cazzo dici io? No, 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 lo specchio. Pasquale, guarda. Non lo vedo, lo vedo quanto vuoi. Non lo so, perché c'è la metterla polvere sopra che... Pensa, tu hai detto che è cent'anni che sta qui, sta roba, 95 anni. Ma che vero, però li usa nei specchi, eh? Eh, lo so. Non lo ripestate. Infatti lo volevo pulir. Fateci capire che siete qui. Se aspettate un attimo lo pulisco. Mi sono portato dietro pure uno straccio, guarda che culo. C'è pure uno straccio? Sì, oh. Come c'è caldo? Oh, adesso... T'ha segnato il K2, sentivo rumori. Può sì. Controllatemi intorno, ragazzi, e fate le foto allo specchio, eh? Sì. Io intanto lo pulisco. Questo è il vento, lo facciamo a vedere qui. Oh. In le tende. Oh. Ma che cazzo? Prima non si muoveva. Non si muoveva, ci si è montato in adesso avanti e dietro, no? C'è qualcuno qui? Guarda, guarda, questo è, aumenta. Ma guarda, questo è, non è che tende stirate, messe bene, morbide, appena pulite. Questo è tende che ha 90 anni che sta... Non è che cosa devo fare qui davanti, capito. Guarda, guarda, è strano che ci sta fare quello che prima non ci faceva, sarebbe stata un luogo il vento. Bello, bello, bello proprio. Ma questo è un cattorentità, ragazzi, eh? Sì, sì. Bene. Vi la faccio la serie. Sì, va un po' più avanti. Aspetta, se lo metto un po' più su. Chissà dove stava incanciato, dove stava attaccato. Perché se no, lo potrei mettere in attacca su. No, è storto. Niente. Ok. Eh, c'è il gancio dietro che è storto. No, non è la faccio la serie. No, vedremo. Avanti, avvicinatevi. Perché potrebbe apparire dietro, no? Alle spalle. Mi metto un po' più lì, cosa vedi che se faccio un'altra. Ti va a partire la nostra presenza? Un po'. Un po'. Un po'. C'è qualcosa che si muove là dentro. Non è che si è mosso l'aggeggio? Probabile, perché se fosse mosso, ciò deve stare a riprendere la telecamera, quindi... la salsa è riazionata. Non so, non capisco. Non puoi andare a riprendere la telecamera. Non puoi andare a riprendere la telecamera. Non puoi andare a riprendere la telecamera. c'è questo mobile qui si stanno attaccati lì stanno vedi la forma è quella si si qui si è la sua ma cosa c'è lo spazio? qua è una stanza normale questa finestra non mi piace per me qui però c'è il pavimento sfondato stai attento Federico vedo che stanno giù lì ci faccio solo l'effetto però magari senza perché non avete il preciclo? se è di 4 miglia lì c'è lì mi incostava tipo la madonna o qualcosa si 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 va tanto la madonna che non c'è quella di... si io vedo quello specchio lì non lo so sembra che si muove qualcosa allo specchio un po' di impressioni strane ce l'ho pure io perché comunque se io mi sento che qualcosa mi sta cioè c'è stagia intorno non mi sento come c'è la triposta la triposta mi sento più tranquillo qui invece lo sento che c'è effettivamente qualcosa è? è già in realtà un po' dei segnali ce l'ha dato cosa? si si siete qua tu? tu? dopo scuole faci un sincosa che fai domande però certo, non sa quasi sempre un bel coso eh tutti i blog su se no cazzo anzi se vuoi che hai una sessione di domande ma hai dovuto fare una stanza? eh si, c'è fermato io la foto io l'ho fatta di dietro perché mi sono sentito buio poco questa non si apre io l'ho fatta la foto da dentro un buio guarda che roba c'è qualcuno qui senti il pavimento che si lingua perché non sa che c'è bucca all'acqua vede qua c'è un'altra porta che non so se si unisce a qualche altra stanza però il pavimento lo vedo un po' così prova a vedere se si muove perché se ci vado io ho preso tre volte di te prova un po' com'è è fermo si si puoi venire ok io non sento che cosa di provarla ok perfetto la parte qui sono sotto cosa qui c'è tipo manciarda ok no io anche perché te voglio fare foto dietro le spalle eh te se vuoi fare qualcosa di troppo porca miseria era l'ombra mia niente c'è qualcosa che mi lascia in tensione qui dentro non so perché sto atteso come una corda di viola sentito? si pareva un urno era gestato le panoramiche c'era? si si c'era un'altra porta di viola si però non è è stato un po' di è stato un po' di ma è stato un po' di Grazie. Che cosa? Almeno il mio marito con le persone di Marte che deve fare Provo a pensare, sono messi, sono un po' di scivola animale, sono un po' di scivola Certo del tempo Cioè, non faccio farne di più Provo sempre temporizzando per quella Dio, lo fa una cosa Dio, il tempo A un luogo Siamo lì Siete qui vicino a noi? E' un minuto Sì E' un minuto Eh E' un minuto Sì Può passare un l'audio? Para, para No, no, no Perchè ancora in passaggio a questa casa? Siete veramente così legati? Sì Vedete che ce ne andiamo? No, un po' più bassi Oppure volete restare ancora un altro po' qui, con voi? Toccateci, se volete che ce ne andiamo Da là Ho sentito qualcosa da là Ho fatto rumore Ho chieduto una porta La cingola qui Eh Però la cingola qui e la porta No Però non penso che Può rifarlo? Sì Vi giuriamo Che se fatto non ha rumore O se ci toccate Ce ne andremo veramente Vi giuriamo Che se fatto non ha rumore O se ci toccate O sin pneumò Se sente qualcosa ma molto disturbo lontananza. Però in realtà il rumore l'ha fatto ma è lontananza. Ma io sento delle vibrazioni proprio dalle pareti. Non capisco. Non può essere il terremoto. No, essere il terremoto lo sentimi benissimo. Un po' su una casa così. Cosa? Il caminetto. Il caminetto? No. Ma perché in caminetto? No, perché era chiuso prima. Cioè la ricorda che l'ha chiuso? Tu non l'avevi toccato quindi lui. Eh no, l'ho toccato e ce l'ho registrato. Ma non credo. No, no, non l'ho toccato. Manco messo il corto che era. Io mi ricordo che l'ho toccato perché era questo qui. Era così. Dopo siamo stati tornati qua adesso e era così. Io non l'ho toccato ragazzi. E' stato quello che vuole prima che si è aperto. Prosto, incidente. Oh, sentito? La di sotto? Sempre di sotto. Prima era di sopra che li faceva, adesso di sotto. Questo è un bel ostacolo. Adesso non lo ricorda. E' una cosa che ha fatto muovere. Questa pure. Potete chiuderlo? Davanti a noi? No, è più difficile. Stiamo andando a metterciare l'impantano. E poi l'impantano già in operazione da sotto, capito? Che poi l'impantano, guarda, come in questo senso vuole, ci viene l'impantamento. Oh! Stai tornato? Sì. Un po' grafico, un altro problema. Cazzo, mi sei passato da fianco un attimo. Il problema è su tutto. Ciao! Sì, a me me la dà. Non lo so, tipo... 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 Non lo so. E poi non mi piace. E che cazzo è lo... Guarda... E... Un'altra volta? Cidia, trammè. Eh vabbè, allora c'è stato apposta, no? Sto a giocare... Ma se stai un po' per a... Sto a giocare con noi. Cidia. Guarda, stai con noi veramente. Vuoi giocare con noi? si o no perché quando noi ce ne andiamo tutti metti a fare i rumori ti piace farci gli scherzi si muove? sono l'unica dove ci stanno? quello del camionetto qui pare che c'è la scala fasulla adesso ci devi fare un po' quello eh? no, quello che ho preso ma non può fare una cosa, appoggiare un po' di vicino Lu? facciamo un po' di domande devo prendere il capo di quello lì c'è oh, che cazzo è? non cazzo sono più stanno dietro faccio pure un'altra cosa avvicinatevi a noi avanti non vedete quei due strumenti senti so che vi mettevate dei seduti sempre qua pure la qualità del pezzo guarda un po' sta puntando alla tenda ma non hai vantato non divertatevi porca miseria cosa sono venuto fuori? eh, dopo va via l'anteprima ma questo dopo li rivedremo stavo a puntare alla tenda però è venuto verso lì da te Pasquale eh già che appassio non era verso la tenda tocami uno specchio è qualcosa non so, l'ho visto subito che era una roba strana ma sembra che vede qualcosa io l'ho visto subito che con uno specchio era una roba strana un ultimo segnale, richiediamo solo un ultimo segnale e ce ne andremo oh mamma mia ragazzi ma proprio come del prima non quello che si è spento io non parlo del sole, non quello che si è spento un'ottima volta, ti prego un'ottima volta, ti prego non lo voglio ripartare guarda, con il generatore dell'acqua magnetici dove forse di tagliare quasi eh, che ce capisci se vuole farlo no che ce capisci se... però il click l'ho sentito si, l'ho sentito pure io si, si, quello è la scelta comunque ti ringraziamo perché comunque sia ma meno più di un segnale ce l'avete dato comunque puntava la e piangeva la verso la tenda ma scusa, tu ti ricordi che la tenda era spostata in quella maniera? non so che l'angolo per terra veniva avanti Lucì io non ho capito io non ho toccato la tenda quando sono passata io non mi ricordo sinceramente non ti posso dire nessuno no perchè non mi ricordo comunque incredibile perché poco prima si spegnesse la telecamera che si spegne la spalla sembriano le voci più di una dobbiamo farlo che non faccio sembrava tipo che stava a dare direttivo a qualcuno cosa ci vuoi fare? ci vuoi menare? o ci vuoi solo toccare? senti? ehi ehi ti puoi porti e tu non stai non c'era il piccio no no non c'era tutto a casa no 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 il piccio puoi portare il mio papà no ma poi non c'era tutto a casa c'era il piccio e c'era il piccio accorti ma hai sentito che roba? questa che abbiamo sentito? a tutti allora mi stai rizzeri bene? eh i picciari pur a me c'è la batteria che è morta qui tu sei scattigato la batteria ora io sono ancora registrato no ci sta rizzeri tutto che sta rizzeri tutto pastore? il mio 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 non c'era no no l'avevo lasciato lì perchè credessi quante volte trozzavano? quante volte mi circoletava tutto lì? eravate voi che facevate questo rumore strano? perchè non lo fate di nuovo allora? io lo sento eh che non lo fate di nuovo? che non lo fate di nuovo? io lo fate di nuovo? spaventarci per farci andare via vero cazzo non so scemo proprio non ci gira intorno come se gli piace fa tipo una specie di scherzetto come adesso si è K2 che non è il meter niente non ha sognato niente o fammi un po' le domande con lo spirit box acceso qui davanti al camion un'ultima sessione me la farei sinceramente come l'ultima sessione poi non lo fa a chiudere un po' più basso perché se parla non vi conti fermi siamo tutti fermi immobili come l'estato che c'era conti avete spaventato vostra figlia che se n'è andata avete provato a contattarla lo sapete che siete morti è sopra ragazzi questa risponde è sopra perché ci stai camminando sopra e non vieni direttamente qui hai cura di noi sentito? si si è smossa tipo una finestra tipo non si randa perché continua a girarsi intorno? eh signori io sento sento perché cerco di rimanere più calmo possibile ma capito? sai quando forse devi dare un altro controllo? perché dici o scoppio o me tengo capito? guarda così è c'è qualche altra domanda di Luca allora quando stavamo sulla soffitta adesso mi ricordo Pasquale l'ho aperta io lo sportelletto perché non capivo cosa era l'ho aperto io lo sportelletto adesso mi è venuto in mente ti ha dato fastidio che ho toccato la stufa? è così eh sì ripeto la domanda ti ha dato fastidio che ho toccato la stufa di sopra? l'hai sgrillettato? sono sicuro di cercare di bevete qualcosa però non ci riesce perché quella lì non è una stufa costruita a mano ecco perché erano i mattoni ho visto che erano mattoni erano tipo foratelle lavorate adesso mi ricordo l'ho toccato perché mi sembravano foratelle lavorate invece poi ho visto che era una caldaietta una caldaietta no l'ho toccato l'ho toccato la caldaietta lo scetto l'ho toccato sebbiamo e chi lo stia toccato allora no perché la gente dice cioè abbiamo le riprese e non è che vediamo lì La telecamera che sta là, no, quella non è attaccava pure, l'empampe funziona? Si si, è al massimo no? Non mi suona il coso qui? L'empampe è scarico cocco, è finito l'empampe, si senti? No, ma non mi segna al zero? Guarda, 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 lo fanno lì, vedi, ho trovato l'errore, l'errore per qualche modo altro, però questo è che non segna, non mi dai campi magnetici, io mi sono se andrà vicino, guarda, 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 non lo sbaglio, è strano però, non capisco, è strano però il K2, qui è un po' il K2, vedi un po', guarda lì, allora è regolato male questo, è regolato pure troppo piano questo qui, allora può essere, se può sta, se può se ne vuole segna subito, anche il meu meter lo fa, sei qui con noi? Sì, pure a me, in generale, tipo delle vibrazioni sonore, non so se abbiamo chiappato con le foto, non so se abbiamo chiappato con le foto, non però non mi vedete più, pur a me, e io pure sento, e poi sono vestito bene, però sento i video, è pure io, quindi ti ho appena l'energia, l'avventaggio, Cosa volete cercare di dirci? Avanti! C'era una sfera di luce sopra la testa di Pasquale! Non ti muove Pasquale? Guarda! Sì! E questa non è una... Dovrebbe essere un orbe, lo rivedremo meglio quando le mettiamo sul computer. Fanno in altra, fanno in altra! E qui adesso? Vedete non c'è più! Non è facile cosa stai cercando perché stanno sempre in movimento. Però da quando ha fatto la domanda se gli dava fastidio che era appoggiato al letto. Cos'era? 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 Cosa? Ci sta la seria! Possiamo a rumore! Io tu c'è il triciclo! Eh no tu perché eri più mutano! Cazzo ma l'ho sentito bene ha fatto un ping! Un po' un attimo! Riprovi un attimo, riprendo il triciclo Pasquale! C'è la telecamera sulla mano? No no no! La telecamera sulla mano! No no no! La telecamera sulla mano! Lì ci vorrebbe Pasquale insieme allo Spirit Box e il registratore panoramico! C'è la telecamera sulla mano! No no! La telecamera sulla mano è la telecamera! Ma magari un po' distante! Sento pure una tacca! Un anti zero eh! Sto scaricato tutto! Sto scaricato tutto! Sto scaricato tutto! Sto scaricato tutto! Ah! Mi prendete qui! Mi prendete qui! Mi prendete qui! Che è fatto? Mi prendete qui! Che è successo? Sto facendo delle anomalie strane! Eh! È finita la batteria! No! L'infrarosso è lì! Esatto! Però il problema è che l'infrarosso è separato da... C'è un caricatore a sé! Eh! Ho capito! Ma se non funziona più l'infrarosso... Hai voglia! Abbiamo neanche la batteria! No! E non cosa! No! Non funziona più! Oh! C'è un caricatore! Non funziona più! Però con me la batteria... A prenderà anche gli... ...i prodotti! Un caricatore! Oh! Una e chiamata! Questa deve essere il postile qui, il clima. Sì, tanto questa era la sala principale, guarda che cam... Che tanto loro si sentene, capito? Dici come... Questa è casa di loro, stavo nel clima. Però ancora si sentene vivi da tranquillo. È quello, per quello ho fatto la domanda prima, perché in qualche entità non si sente ad essere morta ancora. Sì, poi pensa di essere tranquilla a casa sua... Oh, 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 ok, un po' qua. Siente... Siente a fischiare. Siembrano. Puoi amicare questo verso? Vai, 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 vai... Va, 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 va... Puoi amicare questo verso? era una canzone tipo l'ho sentita per un bel pezzo puoi riparare un po' il dischio? senti senti continua però nel frattempo ogni tanto sbalza 2 metri ogni tanto si sta a punta lì e l'ho alla camera guarda 0.3 oh 0.2 però ho capito ora prima c'era lì vicino la segnala 0 va sbalzi capito quello che è strano che fa sbalzi sta accontentando tutto qui e di sopra e da di sotto si senti a fare rumore così capito se ti avvicini tanto vicino allora ti segna che in realtà l'ha impanto ma io stavo molto più lontano quindi stai fuori dal cerchio che hai capito che hai fatto che hai fatto finalmente segna 0 è riuscito a catturare qualcosa ti dirò che ho sentito tanta roba hai visto quando ha cominciato a fare la stessa canzone si ha segnato ha segnato fino a 0.3 segnava eh niente male veramente perché ma se vedeva che questa era una cosa guarda ecco visto 0.1 poi l'hai staccato questo è stato un sbalzo veloce però in realtà c'è niente non è che non c'è capito quello è andiamo a fare andiamo a fare la chiusura ti sei spentata la telecamera no no andiamo a fare l'avviciatore eh poi c'è andiamo giù andiamo a fare quindi potremmo dire che l'immigrazione è conclusa si fanno un ultimo giro di perlostrazione intorno no intorno alla casa si intorno alla casolare alla villa e poi dopo si potremmo avviare la chiusura scendiamo niente io questo lo tengo acceso ce son mai io mi ammite pure lo devo aver fatto lo fanno acceso prima mattina perché prima me mi ha sbalzato pure da fuori si non è pure giù le stelle l'ha cominciato sbalzato l'immigrazione è finita è stata interessante è stata un'esperienza veramente è un pezzo che non si è scaricato le batterie fino a quel punto ma oltre le batterie c'è anche la lì che voci strane rumori musiche musiche non so se hai sentito tu io non lo so ragazzi la musica io l'ho sentita e quando l'ho caricata il mio mister signore io ormai a forza di fare l'investigazione ho cercato sempre di trattenermi il più possibile però veramente stasera sai quando veramente senti quella voglia che dici devo cercare di stare calmo ma non la fai una delle poche sensazioni inizia pure a fare qualche goccia d'acqua dopo c'è stata pure alla fine un po' di nausea pure a me anche a lui ho capito sì cioè allora c'è state molte cose strane molte poi dopo ci sarà da vedere pure le analisi tutto quanto perché lì dopo ci saranno ulteriore conferma se c'è troppe cose strane tutte in un botto sì bravo Pasquale perché in realtà poi dopo vedrete anche voi che comunque sia quello pari da vedere a mo ah no dicevo che comunque sia ci sono state tante cose toste toste veramente pesanti adesso dopo vedremo meglio le vostre identificazioni se sarà così qui da fuori alla nostra destra alla nostra sinistra ci sono le strutture dove ci tenevano un po' le bestie e qui sicuramente i cristiani ci abitavano cioè nel senso i lavoratori che lavoravano giù picante perché la struttura è alta solo che è tutta disastrata è andato giù tutto no 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 ma infatti l'altro per cui però non ci poteva investigare se non è vediamo la parte tintata quella fatta bene era la villa poche parole perché se no per adesso qui corrava tutto tutto un bel lato anzi tra l'altro era pericolante anche dentro perché quando camminavi sui pavimento ballava tutto senti la mezzo? mh stavo un attimo stavo zero? si si era zero non era? no no sputtavo che la ah ok no fatto sta comunque che è stata una bella investigazione si io mi considero sinceramente soddisfatto perché se poi le dica già questa è di che stava dietro eh no perché ha fatto il giro mi sa molto strano eh cioè la seconda investigazione consecutiva comunque sia che le cose c'è state io le considero molto soddisfatto io spero che anche per voi sia stato interessante perché questa volta se troviamo gli audio non fanno cazzate le dammo subito al grafico così le fanno ripasso dentro tanto lui c'hai apparecchia porta che se c'è un audio interessante qualcosa che è registrato del tosto veramente anche le foto anche l'orbe che c'era sopra la testa sua lì i netti tutto quello che adesso riuscimo a trovare che c'era strano lo passiamo a lui perché è giusto è veramente bravo è giusto che veramente lo controlli persone ancora più esperte di noi giustamente ragazzi sta piovendo se sta a venire giù eh sì adesso comincia a aumentare a piove niente niente vediamo la prossima investigazione vediamo la prossima investigazione speriamo che ci sarà molto interessante eh la prossima di quale vuoi quella di sabato prossimo capito ah è vero eh eh ma niente io mi scordo sempre e quella sarà cioè interessante più che altro perché è una cosa nuova c'è anche il nostro collaboratore niente la prossima investigazione che sarà molto interessante anche perché per noi è una cosa nuova quindi è anche una sorpresa ci sarai ci sarà con noi anche il nostro amico Davide che mi guardi ci siamo stati quel giorno a dicembre in quel hotel abbandonato esatto e quindi ci sarà anche lui che ci darà una mano alle investigazioni ha detto qualcosa Lupe? allora il ca' è venuto da la e mi è venuto a guardarci solito gli occhi c'è qualcosa che ho visto là che cazzo da fa? ma pura tanto comunque sia stasera già lo avevamo registrato è quasi strano non è che no no ma ancora continuano e quindi niente che sarà qualcosa un po' più interessante che dopo vediamo cosa succederà esatto no ritornando a noi no perché c'è le cose c'è le robe intorno che non si capisce a parte Zeus che sta a correre intorno ma non è Zeus non è Zeus c'è pure qualcosa in più è Zeus dai alla prossima investigazione quindi niente alla prossima investigazione che sarà interessante perché è una cosa veramente nuova nuova bella importante niente alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao